Milena mi racconti come si è sviluppata la passione per te anche nelle tue compagne verso il volteggio con il centro ipico del Bardigiano. Allora io personalmente ho iniziato a nove anni facendo una settimana di centro estivo appunto alla società di ipicare il Bardigiano e da lì ho provato il volteggio e me ne sono innamorata e così mi sono iscritta al corso e da lì ho iniziato. Anita e Emma anche loro hanno fatto il centro estivo quando erano più bambine, lei ha iniziato quando aveva tre anni, lei quando aveva sette, poi lei new entry ce l'abbiamo da un annetto, Ambra anche da due anni e Elenia anche lei da due anni circa. Ilenia e Ambra facevano l'equitazione prima quindi erano già in società e tutte quante tranne loro due, Margherita e Emma siamo agoniste, io categoria una stella, loro quattro categoria D e Emma e Margherita sono in categoria L, quindi ludica. Mi parli un po' del vantaggio in generale, come vi allenate, quali sono diciamo le caratteristiche giuste per emergere e per togliersi delle soddisfazioni? Ok, allora noi ovviamente arriviamo in maneggio una mezz'oretta prima per prepararci il cavallo, così da instaurare innanzitutto il primo rapporto, l'avvicinamento iniziale e da lì entriamo in campo, ci iniziamo a scaldare correndo e stessa cosa fa il cavallo, tutte e due le mani, mano destra e mano sinistra, iniziamo a fare qualche avvicinamento, poi le prime salite sono sempre di riscaldamento per il cavallo e da lì cominciamo ad allenarci sui nostri esercizi, anche quelli più difficili per noi ovviamente, quindi obbligatori e libero, che è la parte un po' più artistica diciamo. Soprattutto in pre-gara cerchiamo a casa di simulare proprio la gara, quindi proprio facciamo l'entrata, tutto l'ingresso, tutta la preparazione di gara, così anche con i bambini più piccoli e a fine allenamento si smonta tutti insieme il cavallo, si ripone a posto, si raccattano le proprie cose e si torna a casa e ci si ritrova poi per il prossimo allenamento. Dove si trova la società epica del Bardigiano e che cosa rappresenta per tutti voi? Allora la società epica in realtà è qua vicino al centro epico genovese, si trova in via Monte Rosato a Bavari e per noi, direi che è innanzitutto un'enorme famiglia, siamo anche abbastanza legati diciamo a tutta la scuola dell'equitazione, cioè siamo sempre a vicenda tra equitazione e volteggio, ci sosteniamo e poi tra di noi nel volteggio c'è un enorme spirito di squadra anche tra squadre diverse, ludiche e agoniste. Ci vogliamo un sacco di bene, a noi e ai nostri cavalli, Luvi e Bobo.